Salerno ospiterà AgriFood, una cinque giorni dedicata all'agroalimentare in ottica futura e di sostenibilità. Un domani influenzato dall'evoluzione dell'ecosistema mondiale, dal cambiamento climatico e dei nuovi equilibri geopolitici mondiali. Nel corso degli eventi sarà approfondita la questione della carne sintetica, del turismo enogastronomico, con anche dei momenti di confronti con scienziati di rilievo. Siamo in un momento di grande cambiamento, quindi anche cambiamento climatico, cambiamento sociale e spesso il dibattito cade in sterili polarizzazioni contro o a favore di una determinata posizione. Noi pensiamo che sia importante capire di più su temi centrali come la carne sintetica, come le nuove proteine, come la possibilità dell'utilizzo dei dati dell'intelligenza artificiale all'interno del sistema Cibo, un sistema centrale delle economie della provincia di Salerno e quindi insieme con il sistema impresa, insieme con il meglio della ricerca scientifica e tecnologica ci incontriamo qui per capirne di più. Parola d'ordine e sostenibilità perché noi affrontiamo il tema dell'agroalimentare, che è un tema di natura mondiale come possiamo immaginare. Il futuro dell'alimentazione preoccupa tutto il mondo, noi dobbiamo partire sempre da un dato che la popolazione mondiale si è raddoppiata negli ultimi 50 anni, da 4 a 8 miliardi di persone, il che vuol dire che il problema è fondamentale. Sostenibilità legata all'alimentazione significa attenzione ai cambiamenti climatici, significa attenzione allo spreco dell'acqua, perché l'acqua è fondamentale per tutte le attività che riguardano la catena alimentare e tra l'altro la catena alimentare è quella che sperpera più acqua, consuma più acqua e quindi è indiscutibile che il tema è molto sentito. Noi in questi 5 giorni di Agri-Food Future a Salerno vogliamo affrontare il tema dell'alimentazione dal campo al consumatore, tenendo conto di tutte le variabili che oggi intercorrono, che non sono solo la sostenibilità, ma sono per esempio l'internazionalizzazione, sono l'innovazione, pensiamo a qual è il futuro del cibo. Su questo tema avremo sicuramente degli interventi molto significativi, così come per esempio su quello che riguarda il futuro sotto l'aspetto dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale.